Un accordo per il pianeta, quello che si cerca in questi giorni a Parigi. Abbiamo bisogno di un accordo forte e significativo per stare sotto i due gradi di aumento della temperatura, anche per garantire la pace e la sicurezza internazionale, ha detto il segretario ONU Ban Ki-moon. Con la nuova legge di bilancio metteremo 4 miliardi sul cambiamento climatico. Da qui al 2020, ha assicurato il Premier Renzi, che ha aggiunto, siamo chiamati a disegnare il futuro del mondo. E proprio mentre a Parigi si apriva il vertice sul clima, a Pechino è scattato il livello di allerta arancione per una fitta nebbia dovuta allo smog che ha immerso la città. Le autorità hanno invitato anziani e bambini a restare in casa, divieto di circolazione per i mezzi pesanti e riduzione di produzione negli impianti industriali, ad aggravare l'inquinamento e l'accensione degli impianti di riscaldamento, in gran parte alimentati a carbone. Non accenna ad abbassarsi il tono dello scontro diplomatico tra Mosca e Ancara. Da Parigi il capo del Kremlin, Vladimir Putin, torna ad attaccare la Turchia per l'abbattimento del bombardiere russo il 23 novembre scorso nei cieli della Siria. La Russia ha motivo di sospettare che sia stato abbattuto per assicurare forniture illegali di petrolio dall'ISIS alla Turchia, ha detto Putin. Lo riporta l'agenzia TASS, secondo cui Erdogan sarebbe pronto a dimettersi se le parole di Putin fossero vere. Sono quattro i cittadini kosovari arrestati nell'ambito dell'operazione antiterrorismo partita dalla procura di Brescia nei confronti di una presunta organizzazione che anche attraverso l'uso della rete e dei social network propagandava l'ideologia jihadista. Per la prima volta nei confronti di una di loro è scattata la misura della sorveglianza speciale. Il blitz è scattato contemporaneamente in alcune città italiane e in Kosovo. Gli inquirenti avrebbero intercettato una serie di messaggi di propaganda e di minacce rivolte anche a Papa Francesco. Resta introvabile Salah Abdeslam, una fonte vicina alle indagini, sostiene che il ricercato numero uno per le stragi di Parigi sarebbe fuggito in Siria favorito da amici e coperture. Intanto i media belgi sostengono che sarebbe stato uno scherzo all'origine delle perquisizioni della polizia e in alcune case a Molenbeek un abitante della zona aveva segnalato alle forze dell'ordine la presenza di Salah Abdeslam in un appartamento vuoto.